Eccoci qua, ciao a tutti. Come sapete in questi giorni sono partite tantissime campagne di solidarietà per provare a dare una mano al nostro sistema sanitario che sta affrontando un momento davvero complicato. Quindi insieme ad alcuni amici che mi hanno dato una mano a far partire questa iniziativa e in collaborazione con l'ASL2 di Savona, abbiamo pensato che nel nostro piccolo, nella nostra provincia possiamo comunque fare qualcosa di importante se ci mettiamo insieme. A questo proposito l'ospedale San Paolo di Savona sta affrontando in queste ore l'ampliamento del reparto di malattie infettive che è fondamentale per fronteggiare questa situazione. Allora, se ci volete dare una mano, cliccate sul link che vi lascio in bio. Siccome questa campagna sta partendo con questo video, in questo momento le condivisioni sono davvero importantissime. Io vi ringrazio in ogni caso e vi mando un abbraccio virtuale che spero diventi reale il prima possibile.